Salve a tutti ragazzi, ben trovati in questi nuovi episodi di Smash Fantasy 9 Nel scorsi episodi abbiamo affrontato il boss opzionale Il prossimo guardiano del caos Il guardiano dell'acqua Dovremmo proteggerci dall'elemento acqua Ripangiamo i fiocchi a seno dei vivi E l'eco Che poi li allargerebbe proprio l'attacco devastante che... cosa... l'idroca Ok, andiamo Ok, passando di qua parte la boss site Ok, prima c'erano stati dialoghi quando siamo passati di qua Sono Kraken, il caos dell'acqua Non vi permetterò di andare avanti Si vede, malmocchi Celicidio Alessio E la faccia è liberato Magno Magno Ok L'amore Un bel bisogno della stanza Un bel bisogno Quasi 60 episodi, eh? Vabbè, poi prendiamo il finale. La direò fino a 71 episodi. Ok, renda quell'anno più o meno 6000 HP. Ah, lo soggio di figlio. Che palle. Tanto siamo immuni. TABULA ROSA! Nooo, i miei tentacoli! Ve la faccio pagare cara. Ma dopo una condanna a morte. Marmocchi! Cosa? Nooo! Odio i pulmini! Che c'è? Ora, prendete questo! Aia! Fa male! Oh, l'asta magia! Eh? Eh? Ma cosa? Come hai fatto a non coprirlo? E ora prendi questo! E ora prendi questo! Staccata! Ah! Cosa credere di fare? Occiosa! Non mi ha fatto nulla! E ora prendi questo, papà! Che botta! E' un altro! Ah! Ah! Non ci vedi proprio! Mettiti gli occhiali! E ora a noi due! TABULA ROSA! Ma ancora con questo colpo? Non capito che non ha alcun effetto! Ma cosa? Ma se prima non aveva effetto! ora mi viene è da un giga per tutti ahia ora vivi fineamolo colpo Tungalda no non posso essere sconfitto no e anche quello è sessimato ok ce l'abbiamo fatta ora dovrebbe mancare anche solo l'ultimo boss anche qui se volete cambiare membri ok ora mi riposo con una tenda visto che nella battaglia boss abbiamo subito danni qua da qualche parte dovrebbe esserci l'arma finale di video da qualche parte che diavolo è questa palla di fuoco saremo saremo mica degli inferi è la nascita di gaia la nascita di gaia si gaia fu il primo pianeta a nascere nell'infinito universo e poi cosa è successo prosegui e verrai a questa epoca terra raggiunse il massimo dello splendore e vantava di capa la capacità di controllare la vita nel pianeta ma poi si consuma la tragedia e da qui io vediamo se c'è l'arma finale di dovrebbe essere qui da qualche parte ah qui se volete potete pure sfidare a carte sono nello spirito del maestro del nodo impeccatrice no e vabbè dai abbiamo sconvitto il kraken al prossimo episodio dovremo battere l'ultimo 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 boss che si tratta proprio il caso della terra che avevamo incontrato con gitan e queen ok non so chi manda le squadra per sconfiggio ovviamente vabbè dovrebbe proteggervi dallo status su terra penso che dovrebbe essere poi all'acqua credo l'ultimo caos ragazzi alla prossima e ci vediamo al prossimo episodio ciao 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 ciao